Buongiorno, sono Bernard Schaff, Product Manager della nuova macchina digitale BIMFIRE. Adesso presenterò le caratteristiche principali della macchina. La macchina si tratta principalmente al mercato del mercato del mercato. È molto interessante per il mercato dell'industria del mercato in Italia. La macchina della macchina è B1, che significa 70x100. La macchina è una macchina di mercato. La struttura principale che viene dalla migliora macchina del mercato del mercato. È un XL106. Quindi questa è la struttura. Abbiamo il feedo della macchina. È un standard feedo. Abbiamo il condizionato, che pre-condiziona la macchina. Per il digitale printing. Abbiamo il chatto, che è un concepto di 7 color. Che è un concepto di 7 color. Che significa che può coprire tutte le pantone. Quasi tutte le pantone inche. Di 95% con il delta E meno di 2. E dopo questo abbiamo un dry unit. E, ovviamente, abbiamo un coating unit. Il servizio è molto unico. Abbiamo un dispositivo non-stop. Abbiamo un tab insetto. Abbiamo un servizio di servizio. Abbiamo un pin per le waste sheets. Perché un sheet non sarebbe bene. Quindi, si è un sheeto, si è un sheeto di servizio automaticamente. E, ovviamente, le imprese possono clicchare un button. e solo clicchare. Ci sono un sheeto di servizio. e anche un sito. E, ovviamente, ci sono un sito di servizio. frameseaded. ? No. Ora. No.